Evidente a tutti che siamo in un momento molto delicato. Da un lato abbiamo la necessità di continuare a lavorare per garantire la prosperità nostra e delle nostre famiglie, dall'altra necessità di tutelare appieno la salute nostra e tutti quelli che ci circondano. La Fagioli non si è mai fermata. Anche se il mercato nel suo complesso, già da marzo in Italia e successivamente all'estero, si è ridotto, sin dal primo giorno noi abbiamo continuato a lavorare dove era necessario. Dobbiamo ringraziare gli operatori in cantiere e in officina che si sono mostrati estremamente professionali affrontando cantiere e trasporti con grande senso di responsabilità e adottando tutte le misure di tutela suggerite progressivamente dagli esperti. Abbiamo lavorato molto bene anche da casa, dimostrando che lo smart working è uno strumento idoneo a un'organizzazione come la nostra perché è in grado di adattarsi con flessibilità ai ritmi delle nostre attività che non hanno mai vincoli né di orario né di confini. Abbiamo implementato da subito procedure di tutela che si sono verificate utili a tutto questo e questo è accaduto perché la Fagioli sin dal primo giorno ha attivato un nucleo di emergenza composto dall'amministratore delegato e da un management dedicato. Tutti hanno affrontato in temporali problemi approvando senza indugio le proposte utili a una concreta tutela delle persone. Abbiamo deciso che le procedure sviluppate saranno sempre applicate anche nei cantieri all'estero dove le regole di tutela dovessero essere di grado inferiore rispetto a quelle adottate in Italia. Ovviamente ci adatteremo senza se e senza ma a standard superiori qualora fossero necessari dovunque nel mondo. Lo faremo anche se questo comporterà difficoltà e disagi. Pensate che già ora stiamo facendo fare la quarantena a tutti coloro che vanno e tornano dai cantieri all'estero e stiamo chiedendo a tutti i nostri colleghi di fare turnazioni molto più lunghe in cantiere nel mondo. Per questi motivi noi partiamo avvantaggiati con la fase 2 rispetto a molti altri. Abbiamo accumulato un'esperienza tale che per noi la fase 2 sarà di fatto una sola estensione della fase 1. Sappiamo perfettamente che la fase 2 non è un liberi tutti, ma solo un'estensione organizzata della fase 1 perché il virus non è sparito e non sparisce per decreto. Quindi le misure che adotteremo dovranno a mio avviso essere applicate per molti mesi a venire. Per cui stiamo parlando di una revisione progressiva delle misure e non del loro abbandono. Partiremo inizialmente con maggior rigore, migliorando progressivamente dove possibile. Questo per garantire la capacità della nostra società di rispondere al mercato nel pieno rispetto della nostra sicurezza e di quella di tutti. Non sarà né facile né comodo. Forse non avremo tutte le soluzioni perfette da subito. Per questo tutti noi dobbiamo essere soggetti attivi e adottare individualmente i migliori comportamenti utili allo scopo. Miglior professionalità, nel massimo della sicurezza e della salute di tutti. Responsabilità e professionalità non mancano di certo a noi della fagiola. Grazie a tutti.